La linea decorativa Tattoo permette di realizzare una grande varietà di effetti unici e innovativi, con una facilità di applicazione mai vista prima, riducendo il numero dei passaggi e il tempo di lavorazione. Con riflessi, Tattoo reinterpreta la calce a spatola classica in chiave contemporanea, proponendo alternanze di aree lucide e semiopache e superfici lavorate che giocano con la luce per creare suggestivi chiaroscuri. Andremo ora a decorare una parete con la calce a spatola riflessi. Ci occorreranno i prodotti impronte mid e riflessi, il rullo impronte, il frattone riflessi. Per la preparazione del supporto è sufficiente stendere impronte mid al rullo. Dopo la completa esicazione del fondo, si applicano due mani di calce a spatola riflessi, con un intervallo di almeno 6 ore l'una dall'altra, utilizzando il frattone riflessi per ottenere una superficie perfettamente liscia. Dopo almeno 6 ore, applicare la mano di finitura, sempre con il frattone riflessi, con passate, incrociate e sovrapposizioni irregolari. Si lascia passire qualche minuto e si procede alla lucidatura, passando ripetutamente il frattone riflessi sulla superficie. L'effetto estetico, il disegno e la lucentezza della finitura dipendono dalla tecnica applicativa e possono essere enfatizzati e personalizzati dall'abilità dell'applicatore. Ed ecco il risultato finito. Un effetto classico e sempre attuale, realizzato in pochi passaggi, grazie a Riflessi Tattoo. Tattoo. Creatività all'infinito.